Conosco le vostre sofferenze, perciò vi dico, figli miei, che la più grande tribolazione non è esteriore, ma quella interiore. Liberatevi dal peccato e abbracciate come verità il Vangelo di mio figlio Gesù. Soffro quando vedo gli uomini così lontani da Dio. La grande tribolazione sarà un periodo di terribile sofferenza per gli uomini. Tale evento si verificherà presto, perché l'umanità procede verso la fine dei tempi. Preparate i vostri cuori con la preghiera per sopportare il peso della croce, perché mio figlio Gesù vi chiede di prepararvi. La grande tribolazione sarà un fortissimo tempo di sofferenza come non è mai stato fin dalla creazione. In questi giorni che portano a tali eventi, molti stanno deridendo la parola di Dio. Tale comportamento aumenterà le vostre sofferenze, fuoco cadrà dal cielo e il e il Signore verserà su tutto il mondo il calice della giustizia. Pregate figli miei e non allontanatevi dal sentiero che porti in paradiso. Vi indicherò la via dell'eternità dove la felicità vi attende.